Un uomo di 50 anni arrestato con l'accusa di tentato omicidio nei confronti della cognata ricoverata nel reparto di rianimazione del Perlino di Brindisi. Dopo essere stata ferita con colpi d'arma da fuoco, polizia e squadra mobile continuano ad indagare sui fatti di domenica sulla Statale 7 tra Brindisi e Mesagne. Nuove misure di sicurezza in vista del G7. Saranno oltre 8.000 gli uomini impegnati. Intanto il controllo degli aerei in arrivo a Brindisi, spostato in una sala speciale della capitale. Sombrio per i bambini, Gorizia per i giovani, Trento per gli anziani. Sono le tre province italiane che garantiscono una migliore qualità della vita e le rispettive fasce d'età, secondo il Sole 24 Ore. Male il Sud, specie sui giovanissimi, Mari e Puglia comprese. Buon pomeriggio, appuntamento in diretta con la nostra informazione da Puglia e Basilicata in apertura alla cronaca con l'epilogo dei fatti di ieri arrestato con l'accusa di tentato omicidio del cognato della donna Brindisina, ferita domenica pomeriggio tra Brindisi e Mesagne. Le sue condizioni restano gravissime. I dettagli. Due soli sono gli elementi certi. Una donna Brindisina di 47 anni lotta tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione dell'ospedale Perrino. È un suo cognato cinquantenne arrestato con l'accusa di aver tentato di ammazzarla. La surreale sparatoria avvenuta alle due di domenica pomeriggio su una complanare della statale 7 tra Brindisi e Mesagne davanti a un'azienda che produce principi farmaceutici ha ancora tanti, troppi aspetti da chiarire. Di sicuro c'è la vittima, 47 anni, madre e prossimamente nonna, che è stata colpita da alcune pallottole di pistola calibro 7,65 anche alla testa. Al momento in cui è stata ferita, si trovava a bordo di una Nissan Juke bianca insieme al compagno. L'auto era parcheggiata con la parte anteriore in direzione della complanare e alle spalle l'ingresso della Poli Crystal Line. Con l'altra vettura, una Golf, era arrivato il cognato cinquantenne con almeno un'altra persona. Evidentemente era il luogo scelto per un chiarimento. Il cognato avrebbe impugnato un'arma semiautomatica sparando contro l'abitacolo della Nissan, mandando in frantumi il finestrino del passeggero, efferendo gravemente la donna. Il compagno invece sarebbe stato picchiato, e qui il mistero si infittisce, con il fodero di una katana, una spada giapponese. Sia la pistola che la guaina sono state recuperate dalla polizia nella zona della sparatoria. In serata, il PM Paola Palumbo, al termine dell'interrogatorio, ha disposto l'arresto del cognato per tentato omicidio. Il movente è oscuro, ma è legato ad aspri dissidi familiari, che pare andassero avanti da tempo. Ora si spera solo che la vicenda non possa avere un epilogo ancora più tragico. Sarà lutto cittadino a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, nel giorno dei funerali di Rachele Covino, tantunenne uccise nella sua abitazione nella tarda mattina di sabato 25 maggio, così il sindaco Michele Crisetti, sottolineando il momento di profondo dolore dell'intera comunità e l'avvicinanza alla famiglia dell'anziana. Ci spostiamo a Bari. Guerra di Mala nel quartiere Carrassi. Diventano definitive le condanne di sette presunti affiliati ai clan Palermiti, Anemolo, Capriati, fatti dal gennaio 2018 con l'omicidio di un esponente del clan pronto a passare tra le file del gruppo malavitoso di Bari Vecchia. Sono diventate definitive le condanne dai 17 ai 20 anni delle sette persone arrestate a fine marzo 2021 coinvolte nella guerra tra clan del quartiere Carrassi di Bari, da una parte i Palermiti, Anemolo, dall'altra il clan Capriati che si stava affacciando nel rione. Caso Sbelli, il passaggio di uno degli affiliati Anemolo, Fabiano Andolfi, tra le fila dei Capriati. Per questo fu ucciso il 14 gennaio 2018. L'omicidio nei giorni successivi ha creato un clima di tensione che ha visto vere e proprie scorrerie armate finalizzate alla reciproca eliminazione degli affiliati. La situazione pericolosa ha reso necessari numerosi interventi da parte degli investigatori, come l'arresto del 10 febbraio 2018 di Roberto Mele, fratellastro di Andolfi, che per vendetta aveva consumato una rapina a mano armata e si aggirava per il quartiere Carrassi alla ricerca dei suoi nemici. A distanza di tre mesi le fibrillazioni armate nel clan Anemolo hanno reso necessari ulteriori interventi repressivi nella prima decade del mese di giugno. Infatti Vincenzo Anemolo aveva ordinato l'omicidio di Filippo Cucumazzo, che scampato all'agguato il 7 giugno 2018 era stato protagonista di una vera e propria caccia all'uomo, finalizzata a eliminare sia gli attentatori sia il mandante Vincenzo Anemolo. Il 13 giugno 2018 sono stati così arrestati Giuseppe Caputo e Giovanni De Benedictis, già autori del tentato omicidio di Cucumazzo. In questo scenario le condanne definitive coinvolgono il capoclan Vincenzo Anemolo, Caputo, Francesco Cascella, Cucumazzo, De Benedictis, Maurizio Donato, Di Cosimo e Mele per omicidio, tentato omicidio, distruzione, soppressione, occultamento di cadavere, porto e detenzione di armi in concorso e tutti aggravati dal metodo mafioso. Lasciamo la cronaca per raccontarci la Puglia che aspetta il G7 e che si prepara alla Summit nuove misure di sicurezza, oltre 8.000 gli uomini impegnati, intanto il controllo degli aerei in arrivo a Brindisi sarà spostato in una sala operativa nella capitale. Col passare dei giorni emergono sempre nuovi elementi sul piano sicurezza disposto in occasione del G7. Saranno quasi 8.000 tra militari e forze dell'ordine gli uomini impiegati in Puglia nei giorni del vertice. Saranno presenti in tutti i luoghi frequentati dai leader mondiali dalla cena di inaugurazione prevista nel castello Svevo di Brindisi il 13 giugno alle strade che percorreranno i capi di Stato e di Governo una volta lasciato l'aeroporto di Brindisi per raggiungere Borgo e Ignazia. Restrizioni rigidissime a terra, in mare e anche in cielo, lo spazio aereo sarà off-limits sul castello Svevo e su alcune aree di Fasano-Borgo e Ignazia compresa ovviamente. Non solo, il controllo degli aerei che atterreranno a Brindisi non sarà gestito dalle locali centrali di controllo ma da una sala speciale con sede a Roma. Una nuova struttura che entrerà in vigore proprio il 13 giugno prossimo e che dovrà restare in piedi fino al 18 giugno. Le misure di sicurezza riguarderanno anche la schermatura dei segnali. L'applicazione interferisce anche con l'uso dei telefoni cellulari nelle aree sensibili, uno strumento che sarà utilizzato soprattutto nei pressi di Borgo e Ignazia. E adesso la politica che attende il Summit. Queste le aspettative del Vice Premier, il leader azzurro Antonio Tajani, ieri in tour nel territorio pugliese. In vista del G7 che ormai è alle porte, sono tanti dossier che coinvolgono l'Italia, tra Israele, Palestina, Iran, Russia. Quale potrebbe essere il ruolo della Puglia? Quello di portatrice di pace. Assolutamente sì. L'incontro che il governo ha deciso di svolgere in Puglia è un messaggio di grande attenzione da parte delle istituzioni alla Puglia. Questo governo segue la Puglia e tutto il meridione d'Italia perché se cresce il meridione cresce tutto il paese. Ma la Puglia è una realtà tale che merita di essere protagonista e mi auguro che dal G7 possa partire un messaggio positivo di dialogo tra i paesi più industrializzati, le grandi democrazie occidentali e il resto del mondo, al Sud America, all'Africa, ai paesi arabi. Insomma un messaggio di pace costruttivo, positivo, che permette anche la crescita del nostro paese. La Puglia con anche l'incontro che si farà a Brindisi, voluto dal Presidente della Repubblica. Sarà un'altra opportunità per la Regione. Sarà il luogo dove si discuterà dei massimi sistemi con i vertici del mondo, sperando che si possa raggiungere la pace sia in Ucraina sia in Palestina. Ancora politica ma da tutt'altro punto di vista perché polemica su un post apparso sulla pagina social del Comune di San Michele Salentino. Vediamo di che si tratta. Si è scatenato un putiferio su un post, poi rimosso contenente un fotomontaggio della Premier Giorgia Meloni in un carcere con la scritta «Quasi mi sento a casa mia, ci sono tutti i miei colleghi». Il meme era a commento di un'intervista rilasciata alla Fiera dell'Auto dal Ministro Raffaele Fitto ad Antena Sud, ma pubblicata sulla pagina Facebook del Comune di San Michele Salentino. Ad aggravare il tutto, almeno secondo gli esponenti del partito della Meloni, il fatto che l'autore del post sia un operatore socio-sanitario che lavora anche con l'ente. Sbotta Luigi Caroli, presidente provinciale di Fratelli d'Italia Brindisi, che chiede al sindaco Giovanni Allegrini di prendere provvedimenti nei confronti dell'internauta in attesa di possibili denunce. «Stiamo valutando con i nostri legali», dice Caroli, per cui il commentatore ha dato l'etichetta di delinquenti al presidente e a un esponente del governo. Qualità della vita, c'è la classifica del Sole 24 Ore presentata dal Festival dell'Economia Sondrio per i bambini, Gorizia per i giovani, Trento per gli anziani. Sono le province italiane che garantiscono migliore qualità rispetto alle fasce d'età che fine fa il sud e soprattutto dove sono le pugliesi. Sondrio per i bambini, Gorizia per i giovani, Trento per gli anziani. Sono le tre province d'Italia che garantiscono migliore qualità della vita alle rispettive fasce d'età. Il report è quello presentato in anteprima al Festival dell'Economia di Trento dal Sole 24 Ore e premia soprattutto Trentino Alto Adige, Lombardia e Veneto, 12 parametri in tutto e nuovi indicatori come gli utenti dei servizi sociali comunali o la partecipazione civile degli over 50. Tra i trend nazionali, il numero dei pediatri in calo, ma anche un'intera generazione di mezzo che sembra rimanere bloccata e con scarsa iniziativa. Under 35 che si sposano sempre meno, imprese con titolari sotto i 35 anni che nel 2024 diminuiscono del 3,2% rispetto all'anno precedente. Sud, inco dalla classifica, non senza exploit come quello di Vibo Valencia, prima per imprenditoria giovanile, male però le aree metropolitane, al netto di Bologna e Firenze, specie se si tratta dei più giovani, Milano 45esima, Napoli, Palermo e Roma che registrano i punteggi peggiori e tra quelle che fanno meno bene non fa eccezione Bari. Nella cinquina di coda dedicata ai più giovani figurano tanto Foggia quanto Brindisi e Taranto. A proposito di qualità della vita, i candidati a sindaco del capoluogo si sono confrontati nello specifico su quello che ha a che fare con l'urbanistica, le infrastrutture, le trasformazioni che verranno nel piano casa, così. A dicembre abbiamo detto, basta parlare soltanto di candidati, modifichiamo un pochettino il modello e cerchiamo di dare dei temi sui quali piuttosto che esprimere noi le nostre opinioni e le nostre considerazioni come tecnici, chiederemo ai candidati sindaci quali sono le loro strategie. Il nuovo piano regolatore, le opere pubbliche, le infrastrutture e i beni paesaggistico-ambientali della città e ancora le lame, le formazioni geologiche di interesse scientifico, la strategia di adattamenti ai cambiamenti climatici e la transizione ecologica. In ultimo le trasformazioni urbane, il piano casa ma soprattutto il futuro del capoluogo pugliese. Candidati a confronto a ospitare la sfida tra i programmi dei candidati sindaco del capoluogo pugliese, questa volta è l'ordine degli architetti di Bari e provincia, quattro candidati che hanno preso parte all'appuntamento. Bari ha bisogno urgentemente di un pug che sia assolutamente partecipato, che prenda in considerazione uno dei nostri obiettivi che è quello del consumo di suolo zero. Più rigenerazione urbana, meno espansione, meno consumo del suolo e attraverso un meccanismo di perequazione, recuperare, dimezzare e volumetrie, ridurre le volumetrie. Quello che bisogna sapere è che di urbanistica si vive e di urbanistica si muore. Non è una questione per tecnici l'urbanistica, è una grande questione politica, di democrazia. L'aggiornamento del pug certamente è uno degli argomenti principali. Bisognerà mettersi immediatamente a lavoro per produrre un piano urbanistico generale che sia aggiornato alle esigenze del 2024. E adesso una doppia pagina che parla di sanità. Lo facciamo ripartendo da Ceglieve-Safica nel brindisino dopo la polemica degli scorsi giorni sulla Fondazione San Raffaele e con il testa a testa a distanza con il consigliere regionale di azione e presidente della prima commissione bilancio della regione Fabiano Amati. Botta e risposta sui licenziamenti del centro di svegli di Ceglieve-Safica. A poche ore dall'attacco di Fabiano Amati nei confronti della Fondazione San Raffaele e dell'onorevole Antonio Angelucci le parti tuonano con risposte precise alle accuse del consigliere regionale per il quale i licenziamenti decisi sono atto di intimidazione e ritorsione nei confronti della regione dopo l'approvazione della legge che trasforma il centro da privato in pubblico. Per Sergio Pasquantonio, presidente della Fondazione San Raffaele, quelle di Amati sono accuse infondate e fuorvianti. Contestiamo quanto dichiarato il transito nel pubblico specifica Pasquantonio a fronte delle 181 unità in servizio ad oggi. È previsto solo per 77 unità, di cui due medici, nove infermieri, 35 terapisti e 28 os. Numeri insufficienti per garantire l'assistenza agli attuali 105 posti letto. Non è previsto il passaggio di ulteriori figure. L'onorevole Angelucci, dal suo canto appreso quanto dichiarato da Amati, smentisce categoricamente ogni suo coinvolgimento nelle attività della Fondazione San Raffaele, nella quale, scrive, non rivesto alcuna carica e non svolgo alcun ruolo. Quanto affermato dal consigliere Amati, appare quindi un attacco politico a pochi giorni dalle elezioni europee, conclude Angelucci. La contrarreplica del consigliere Amati non tarda ad arrivare e in una nuova nota afferma. L'intento della Fondazione è quello di istigare il personale contro le decisioni della Regione, sperando in passi indietro che non verranno mai, perché la riabilitazione intensiva deve essere pubblica ed è intenzione della Regione garantire tutti i livelli occupazionali. Ancora sanità ma ci spostiamo in Capitanata a case e ospedali di comunità. L'azienda sanitaria locale solleva il sipario su lavori che valgono 30 milioni di euro complessivamente. Vediamo dove vanno e che cosa riguardano questi investimenti. Oggi iniziano i primi due cantieri delle case della comunità. Oggi inizia il cantiere a Rodi Garganico e inizia il cantiere a Vico del Gargano. 26 case della comunità e 9 ospedali di comunità per un totale di quasi 30 milioni di euro. L'Asl di Foggia illustra il cronoprogramma dei lavori previsti nell'ambito dei finanziamenti PNRR relativi alle reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale. Obiettivo comune di Asl e denti amministrativi è seguire l'inizio di ogni cantiere per poter monitorare e garantire i tempi richiesti dal cronoprogramma. Alla conferenza stampa di presentazione hanno preso parte la direzione strategica dell'Asl e Foggia e la task force PNRR aziendale. Ecco in cosa consistono le strutture sanitarie che verranno realizzate in tutta la provincia di Foggia a partire da oggi e dentro i primi mesi del 2026 e in che modo impatteranno sul riassetto dei servizi sanitari territoriali e sul benessere della comunità. Le case delle comunità sono degli ambienti ben identificati in alleanza con i medici in medicina generale dove si asseguiranno in un sistema a bespoke servizi polispecialistici anche di diagnosi dove sarà allocata nel punto AB la continuità assistenziale perché il punto AB è aperto 7 giorni su 7 H24. Gli ospedali di comunità sono strutture a carattere invece più assistenziale, meno servizi, più prese in carico di persone che soprattutto le cronicità che non possono più stare a casa loro, immaginiamo le cardiopatie croniche, le diabetologie, per esempio anche le vasculopatie che hanno bisogno di avere un'assistenza di livello medio che non necessita ancora di ospedale vero e proprio ma che non può essere assistito a casa propria. Quindi l'ospedale di comunità filtrerà queste patologie che non devono arrivare a pronto soccorso. Cambiamo pagina, torna a Brindisi Chris Torch che continua gli incontri nel territorio per porre le basi per il progetto di Brindisi Capitale della Cultura 2027. Torna in città Chris Torch con il progetto per la candidatura di Brindisi a Capitale della Cultura che continua a muovere i suoi primi passi con l'incontro con le realtà dei territori e dei quartieri con un'attenzione particolare che lo stesso Torch ha riservato alle scuole con un messaggio che guarda ovviamente al futuro. Questo sindaco dei ragazzi era veramente come una, non ho capito che era possibile quella eloquenza, quella capacità di parlare per la cosa sua. Invece siamo stati alla scuola, non ricordo il nome. Spontaneamente, un'ora insieme con i giovani lì, era molto importante perché loro, io ho chiesto quanti di voi fra dieci anni siete ancora qui a Brindisi, solamente pochi, perché no lavoro, ma se c'era lavoro, se c'era la possibilità di sostenersi qui, tutti vogliono. Vuol dire che Brindisi ha il cuore, ma una paura, una paura del futuro. Il prossimo passaggio è quello di trovare la metafora, la metafora per cominciare, dobbiamo avere una visione lì davanti e questa visione sta adesso come fotografia nel laboratorio quando arriva così, molto lento, ma a un certo momento è molto chiaro. 33 anni di Unicef a Potenza, l'occasione è quella dell'anniversario della ratifica della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Noi c'eravamo. Il mondo che vogliamo, inclusione, diritti e legalità è questo il titolo dell'evento organizzato dall'Unicef Basilicata, rientrante tra le azioni previste dai rispettivi protocolli di intesa con la prefettura e la questura di Potenza e che cade anche nel 33esimo compleanno dell'Unicef Italia. Oggi l'Unicef Italia festeggia il suo compleanno perché sono 33 anni che è stata firmata la ratifica della Convenzione ONU firmata nel 1989, invece il 27 maggio 1991 c'è stata la ratifica con la legge 176 della Convenzione ONU. Quindi sono 33 anni che l'Unicef difende e protegge i bambini e i ragazzi. Oggi è un momento speciale perché il nostro target è speciale. Vogliamo festeggiare questa ricorrenza con gli ospiti dell'Istituto Penale di Potenza, con i ragazzi minori non accompagnati perché sono le fasce fragili dei nostri ragazzi. L'impegno di ogni comunità educante è quello di tutelare questi minori, di dare voce a questi minori che spesso non hanno voce e fare in modo che le istituzioni possano ascoltare i loro bisogni. Quindi questa è una giornata di ascolto ma anche di grande emozione e di un festeggiamento come si festeggia nei compleanni. Ancora eventi ma non di anniversario si tratta, bensì della 29esima edizione di Cortili e Aperti a Lecce, città invasa da turisti e visitatori nel tentativo di entrare in contatto con la bellezza e con la storia. È un fiume in piena che scorre lento tra curiosità e stupore per andare alla scoperta dei palazzi antichi e nobiliari di Lecce che per un giorno spalancano i massicci portoni per consentire di visitare i Cortili Aperti e Fioriti. Lecce, i suoi monumenti e i suoi palazzi storici tornano così alla ribalta in occasione della 14esima edizione della giornata nazionale delle dimore storiche italiane e per la 29esima edizione di Cortili Aperti. In un pullulare di visite guidate dove si cimentano come ciceroni d'eccezione gli studenti di diverse scuole, concerti, mostre, presentazioni di libri, animazioni e performance di vario tipo che si diramano a Ragnatela in tutto il centro storico attraverso percorsi da Porta San Biagio, da Porta Rudie e da Porta Napoli in un tripudio di suoni e colori che fanno respirare aria di festa. Una festa a prima vista aristocratica in realtà popolare. E il risveglio acclamato della primavera della città barocca, da sempre città d'arte e di cultura, con il suo fardello di storia di famiglie privilegiate che abitano in dimore dal fascino antico, retaggio tavico della Lecce città chiesa e della Lecce nobilissima. Sono 29 anni che i proprietari dei cortili aperti, tutti i soci, anzi, l'associazione di moro storico italiana, si offrono per fare ammirare le bellezze dei loro portoni, molti sono chiusi durante l'anno, è una possibilità che si dà, mi meraviglio che già ci sia tantissima gente per le strade, ci sono problemi proprio per arrivare in tanti luoghi. Un evento a dimensione di giovani ma anche con un'apertura dedicata alle famiglie. Con queste parole è stato presentato a Potenza il concerto del 30 maggio prossimo che vedrà tre artisti d'eccezione sul palco di piazza Mario Pagano. Vediamo di chi si tratta. È il concerto che concluderà i festeggiamenti in onore del Santo Padrono San Gerardo, un evento organizzato dal Comune di Potenza per soddisfare i gusti di giovani e meno giovani. A partire dalle 20 e 30 di giovedì 30 maggio si succederanno sul palco di piazza Mario Pagano Nello Daniele che presenterà una cover del fratello Pino, Jossi che remixa i grandi successi della musica italiana e Vale Lambo, rapper napoletano con milioni di visualizzazioni sui social. L'evento che sarà presentato da Mr. Parsia vedrà anche le esibizioni di gruppi locali e DJ set. Per il concerto, costato all'amministrazione poco meno di 50.000 euro, è stato predisposto un impotente servizio di sicurezza. Sarà consentito l'accesso in piazza a 3.500 persone e sarà garantito il servizio di scale mobili fino alle 2.00. Rinnoviamo la promessa, c'è stato chiesto tantissime volte il concerto a Capodanno, c'è stato chiesto tante volte il concerto per la giornata del nostro Santo Patrono e noi ci siamo anche quest'anno come l'anno scorso. Quest'anno con qualche proposta maggiore rispetto allo scorso anno, che abbraccia anche le famiglie insieme con i bambini, che poi prosegue fino alla fine della serata intorno alle 2.00 di notte. Anche con il DJ, con un cantante rapper centrale, che richiamerà di certo l'attenzione dei più giovani. Lavoriamo sui giovani perché i giovani vogliono divertirsi. Edizione numero 10 invece per Versi alla Luna a Bari, manifestazione ideata e diretta da Vito Signorile per il Centro Polivalente di Cultura Gruppo Aveliano. Signora Giuseppe, aspetto giudizio, ma erate ingannate, fai te il tonore. Gaggia, che scorsa ci sta a dire a tribunale? Certamente, e che ci saranno... Sostenere e promuovere la tutela delle icone sacre e delle dicole votive delle strade di Bari Vecchia. E questo è l'obiettivo di Versi alla Luna. La manifestazione ideata e diretta da Vito Signorile per il Centro Polivalente di Cultura Gruppo Aveliano, giunta alla sua decima edizione. L'appuntamento ha visto la partecipazione di numerosi attori, artisti e poeti, invitati ad onorare il traguardo raggiunto dell'appuntamento culturale, protagonisti di varie manifestazioni realizzate con la partecipazione delle associazioni, riunite all'interno del più ampio progetto Omaggio a Bari. Sono molto, molto tutelate dagli abitanti del luogo, però ce ne sono alcune che hanno proprio bisogno di restauri e quindi la nostra raccomandazione è sempre stata quella di chi può adotti una di queste icone. Poi manifestazioni di vario genere abbiamo fatto, ovviamente, tutte tese a valorizzare le tradizioni, il costume popolare, barese, i modi di dire, i modi di fare, i luoghi. E tutto ci fermiamo, però torniamo tra poco con le notizie da Bari, Battefoggia. State con noi.